della Sierra Perugia che oggi pomeriggio al Palatrento si gioca l'accesso alle finali di Superlega contro Trento il risultato al momento di due confronti vinti per parte, la partita di oggi sarà l'ultima e la decisiva se i Block Devils dovessero vincere si giocherebbero lo Scudetto contro la forte Lube Macerata si gioca alle 18 diretta su RaiSport Tutte le novità sull'editoria Umbra